Il cofondatore di questo premio, che abbiamo visto le pagine della terra, l'abbiamo seguito finora in diretta, l'importanza di questo premio è giunto alla seconda edizione e anche che cosa in questo momento, visto che il tema di quest'anno è l'ambiente, quanto il premio è importante per dare un'immagine per quello che può essere non solo la cultura delle pagine della terra, ma anche quello che può essere, che per la letteratura e per il romanzo Green può essere un momento veramente di fruizione per quanto riguarda giovani, non solo. Sì, sicuramente, quello che diceva Giovanni Gras rispecchia il tutto, quello che è il segnale che noi vogliamo dare, stiamo dando e continueremo a darlo sempre in modo più persuasivo, almeno 5 miliardi, perché penso che in questo momento è importante, è importante, diciamo, tutto quello che ha dato questi segnali, il titolo di Green, il fenestero, l'interiore, ripeto, dell'interiore, tutto quello che osserviamo, la natura, qual è cosa per la natura, perché non rispettare la natura? Ovviamente sentite le parole anche, insomma, di sussurra di chi ha seguito il premio e adesso ci sta lasciando. L'ultima considerazione, visto che si è giunta la seconda edizione, per quanto riguarda l'intenzione che il premio possa essere, insomma ci sono già dei giurati di grande livello e abbiamo anche visto le opere letterarie. Da cofondatore, qual è l'intenzione per i prossimi, da qui alle prossime edizioni, quale sarà? Ci sono dei progetti in cantiere molto, molto ambiziosi, molto, molto interessanti e portarlo sempre a livello nazionale, ma tra qualche anno, perché no, anche a livello internazionale. Assolutamente, è una munizione in questo momento, ne sarà felice. Ringraziamo ancora l'organizzazione, cofondatore Coturi. E passiamo direttamente alla giuria anche, per i presidenti della giuria, Hermede Leracce, presidente anche di Simbola, abbiamo avuto, nonché ex presidente del Regambiente, quindi giustamente parliamo di ambiente in questa occasione e non solo, visto che le opere letterarie spingono sempre di più sul tema che veramente è il tema fondamentale di questi anni. Sì, lo fanno in una maniera particolare. Io, innanzitutto, voglio ringraziare la sensibilità di Claudio Coturi e devo dire che ho scoperto da co-presidente Enrico Manzina, che sapevo essere persone di grande qualità, ma anche molto simpatico, perché non basta. Il tema del premio è sostanzialmente quello di far capire che dobbiamo cambiare anche noi, deve cambiare anche la nostra lettura della realtà, deve cambiare il racconto della realtà, che per affrontare la sfida ambientale, per rendere più forte la nostra economia e la nostra società, servono anche le emozioni, serve la cultura, serve la bellezza. E trovare dei racconti, dei romanzi che ci facciano cambiare il punto di vista, o in ogni caso che ci guardino con occhio diverso, è una cosa fondamentale, è un percorso avviato, lo continueremo. Un grande scrittore americano, Paul Oster, diceva che le storie accadono solo a chi si raccontano. Ecco, noi speriamo di trovare storie che ci raccontano non solo dei problemi, ma anche delle speranze, delle possibilità di un'Italia che fa l'Italia. Assolutamente. Poi l'intenzione quella con il cofondatore era quella anche di renderlo internazionale. Magari anche, se posso permettere, per rendere ancora più visibile, chiara, poi una città come questa, Venezia, insomma, che ne sta subendo anche le problematiche del cambiamento climatico, di rendere veramente come primo argomento, come primo tema dell'ambiente per il futuro. Sì, anche perché poi questo è un tema che parla di economia, parla di società. Una volta c'era un mantra che diceva l'ambiente è importante ma non deve danneggiare l'economia. Oggi sono un demente, dice questo, perché oggi se non affronti questo tema danneggi l'economia e le imprese che vengono meglio sono quelle più spunte in questa direzione. Ma per far questo serve, ripeto, anche la convinzione delle persone che sta crescendo ma ha bisogno anche di strumenti diversi. Anche uno dei premiati ci ha detto, diciamo, che lui ha iniziato una scelta professionale diversa, ha finito gli alimentari perché la maestra gli ha regalato un libro che apparentemente non era un libro ambientalista direttamente perché era la mia famiglia e altri animali, che però gli ha fornito delle suggestioni e noi siamo alla ricerca, le storie, le suggestioni, di emozioni, di bellezza. Perfetto. Ringraziamo il co-presidente e richiamiamo l'altro co-presidente della giuria con una battuta fatta durante la diretta, quella appunto, visto che è la cosa reciproca, richiamando un po' una delle battute di film di Verdone abbastanza più conosciute. Allora, oltre a quello, l'ho ripetuto non solo in diretta ma l'ho ripetuto anche qui, del quanto ha scoperto la simpatia, non solo il nostro Remedio Relaci ma anche tutti i membri della giuria immagino. Quanto c'è di te nella scelta di oggi e anche quanto c'è nella scelta di voler mettere in evidenza un premio letterario, un romanzo clima in questo momento? Non c'è nulla di me nella scelta, nel senso che qui mi sdoppio, perché non è sempre me stesso confondo, ma sono così. Ho accettato questo premio all'inizio, un anno fa, perché mi sembrava molto importante che credessi un racconto. Il racconto è la base del progresso dell'economia. Quindi, sul palco c'è la Bibbia e l'essere. Il mondo va avanti perché c'è qualcuno che viene da un altro posto e ci racconta qualcosa. Questa cosa c'entra dentro, nel momento che c'entra dentro, possiamo più ignorarla. E ci fa cambiare il modo di pensare, il modo di essere, il modo di comportarci, la relazione accelerata. Assolutamente. E vorrei aggiungere anche una cosa, che questo racconto, questo racconto che si sta imponendo anche da un punto di vista proprio di notizia, apparentemente ci bombarda, lo sappiamo, lo conosciamo, tutti i giorni parliamo soltanto di questo problema. Ma proprio perché viene imposto dall'alto, proprio perché viene imposto in maniera ideologica o politica, spesso rimbalza sulle coscienze delle persone. Mentre attraverso un romanzo, attraverso una storia, che apparentemente non parla di quello, ti entra dentro questo problema e tu arrivi alla stessa conclusione alla quale dovresti arrivare nelle posizioni, ma ne hanno durato tempo. Per cui la letteratura serve a questo, lentamente se diventarsi dentro per farci diventare migliori. Assolutamente. Ringraziamo ancora Presidente Mazzina anche per queste parole. Grazie. E a questo punto aspettiamo di ricollegarci. No, abbiamo l'altra cofondatrice ovviamente. vero, se voi, attenzione che... ... 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 Grazie. La felice del premio, seconda edizione, ovviamente il grande pubblico già la conosce, quanto c'è non solo di lei in questo premio, ma anche quanto volete insistere sulla tematica ambientale, questo aumenta la letteratura, il romanzo che in realtà. Perché l'ambiente, il rapporto corretto dell'individuo con la realtà esterna, la realtà esterna non sono solo le persone, le relazioni che noi abbiamo, ma anche come noi percepiamo, come guardiamo il mondo. Quindi il rapporto che abbiamo con le piante, che sono esseri viventi, con gli animali, con tutto quello che è l'ecosistema, vuol dire consentire un equilibrio anche psicologico, mentale con noi stessi. Cioè l'uomo da sempre, a livello più profondo, quasi archetipico, ha sempre avuto un rapporto unito e indissolubile con la natura. L'interpretazione che l'uomo ha fatto nell'antichità era sempre legata a rivolgersi alla luna, al sole, alle piante, anche nelle parti più minacciose, più complesse che la natura creava per lui stesso. Noi abbiamo perso questa visione creando una supremazia dell'uomo verso la propria terra, questa supremazia, chiamiamola una sorta di delirio, di onipotenza involontario, necessita che ora si recuperi questa realtà. Nel senso che se noi non riusciamo ad avere un rapporto corretto con l'ecosistema, quindi con la terra nella quale noi viviamo, creiamo un'alterazione della realtà. Ce neghiamo a noi stessi la verità delle cose, cioè noi dipendiamo dalla natura e la natura dipende parzialmente da noi, però se la natura capovolge la sua relazione con l'uomo ne veniamo travolti. Del resto i dinosauri sono morti ed è scomparso nell'intera e con caricia un'intera parte della vita dell'uomo proprio perché la natura ad un certo punto ha dato le sue risposte. Quindi oggi è necessario avere una nuova coscienza, ma soprattutto creare un equilibrio tra l'uomo e la natura che deve essere di parità, mentre oggi l'uomo tende a negare a se stesso la dipendenza che ha ancora e la deve avere e migliorare della natura e la natura delle cose stesse. Assolutamente, poi non è un caso che qui a Venezia facciamo appunto questo premio, veramente l'esempio concreto di come i cambiamenti climatici possano in un certo senso non solo rovinare ma creare un impatto incredibile, colossale. Venezia è stata scelta perché è l'aspetto perfetto dell'equilibrio della battaglia e del lavoro che l'uomo fa di chiare bellezza, sostenibilità e rispetto per l'ambiente circostante. Il mare è dentro Venezia, entra nelle case, si alza e si abbassa l'arbre ed è il termine un cambiamento della vita delle persone. Però i veneziani da sempre, millenariamente, loro rapporto di rispetto delle sue emotive, come cercare di avere a che fare con il mare e nello stesso tempo creare le bellezze che ci riguardano. Perché anche la bellezza è uno strumento importante, guardare i palazzi di Venezia, guardarli dall'alto, guardare anche le gondole, l'acqua dal basso, crea sicuramente delle emozioni. Del resto l'emotività, che è un aspetto, se vogliamo, involontario, ma l'emozione, devono ottenere un nuovo lavoro. L'ultima cosa che ho chiesto anche all'altro cofondatore, a Futuli, per quanto riguarda questa la seconda emozione. Che cosa pensate di poter riuscire a fare o comunque di come poterlo trasformare nelle prossime elezioni? Che cosa avete in mente? Che cosa già ci potete anticipare? Intanto abbiamo creato la sezione saggistica, così si creava un maggior chiarimento su questo genere domandico. E secondo luogo è un lavoro lungo di riposizionatura che l'uomo deve fare rispetto al mondo precedente. Però questo richiede una penetrazione nel linguaggio e nella cultura psicologica delle persone che devono reinterpretare il loro rapporto con le città e con l'ambiente. Perché attualmente non c'è. Noi abbiamo vissuto un'epoca di voracità culturale. Ci abbiamo divorato noi stessi con un'assenza di bisogno di tenere conto di quanto la natura fosse importante. L'abbiamo rivelta, abbiamo distrutto le foreste, abbiamo distrutto intere generazioni di piante, di animali. Adesso è necessario ripristinare quello che l'uomo non è riuscito a conservare. Perfetto, grazie mille. Alla regia del lecce. Alla regia del lecce. Alla regia del lecce. E riusciamo anche ad avere il vincitore. Bisogna anche se. Complimenti ancora. Grazie. Grazie, grazie. È stata una lunga attesa, ma insomma, devo dire, ben riposta. Chissà i pesci. I pesci no, lo dicevo prima, infatti, a una lettrice che ha detto che sono contento per i pesci, perché speravano forse che qualcuno si ricordasse di loro. Quindi io l'ho fatto già con questo libro, ma adesso si è amplificata questo ricordo verso questi pesci, che io considero davvero un emblema, un simbolo di ciò di cui si parla, questo premio straordinario. Quindi contentissimo di aver vinto un premio, ma contentissimo di aver vinto questo premio, un premio che onora e che dà risalto all'ambiente, che davvero è diventato un'urgenza, quindi che da una storia che nasce dal mio passato, dai miei ricordi, si è diventato poi tutto ciò, davvero mi onora. Quindi non posso che ringraziare, ma non c'è davvero, sono molto felice di aver vinto, ecco, questo premio, grazie. Assolutamente, assolutamente. Una, proprio l'ultima cosa, al di là del premio di oggi, quanto è importante, a suo parere, la letteratura e il romanzo, in questo caso parliamo del romanzo Green, per stimolare la coscienza delle persone, in particolar modo sulla tematica realtà. Credo che sia molto importante, e questo è stato uno dei motivi per cui ho pensato che scrivere una storia di questo tipo potesse avere un futuro, potesse avere un riscontro, non solo da un editore, come nel caso mio, nella mia vita di Teseo, e come è stato, e anche con i lettori, devo dire che questo mio, ancora opera, sta facendo un percorso in tal senso e i lettori che mi incontrano o mi scrivono sui suoi social apprezzano questo aspetto, anzi, sottolineo il fatto che c'è qualche volta chi si occupa anche, quindi benvenga l'opera d'arte, qualunque sia il piccolo o grande che sia, che sia qui, e l'arte è un veicolo, senz'altro siamo noi, è un tutt'uno, ne parlavamo anche prima, non c'è questa distanza tra le cose. Il co-presidente Vanzina ci ha sottolineato che, a volte, anzi, è ancora meglio, perché riesce a entrare magari in maniera un po' più lenta, ma così anche più riflessiva, c'è delle persone. Certamente, sì, quindi continuare a farlo, senz'altro, mantenendo comunque il carattere di intrattenimento, comunque l'opera d'arte serve a questo, serve a divertire in senso lato, ma anche a, naturalmente, stimolare una riflessione. Assolutamente. Ringraziamo ancora Massimo Spagnati, veramente, per questo premio, e contemporaneamente, però, chiudiamo anche con il, diciamo, il competitor, si riempiono, però, che è stato utile in questa seconda edizione, perché ha creato una nicchia all'interno del premio, cioè il premio per la saggistica, quindi già abbiamo diversificato e probabilmente anche per il merito, appunto, per la, si è, si è, è stato anche sottolineato dal portavoce del Presidente dell'Europa, quanto nella giuria, si fosse anche combattuta questa scelta. Certo, certo. No, io sono contentissimo della, della candidatura, innanzitutto, la, i temi della natura sono sempre, eh, stati nella mia vita, io, prima di dedicarmi completamente alla scrittura, sono, mi sono dedicato per tantissimi anni all'educazione ambientale, eh, nelle scuole, soprattutto, e nei miei libri c'è sempre questa linea rossa, no, che li, che li unisce, il tema, del nostro rapporto con la natura, e le pagine della terra, le scriviamo tutti, tutti i giorni, cioè le dobbiamo scrivere noi tutti, con le nostre azioni, tutti, io credo che per operare un cambiamento in quello che facciamo, in quello che siamo ogni giorno, serva la testa sicuramente, ma il cuore. Quindi il contatto diretto con la terra, ma le storie sono una porta che ci, che ci, che ci si apre sul mondo, soprattutto per i ragazzi, eh, io vedo appunto nelle scuole, i ragazzi, eh, quando leggono un libro, lo vivono fino in fondo. Quindi io sogno sempre che quando un ragazzino, una ragazzina, eh, si addentra in una storia ambientata nel mondo naturale, possa poi aver voglia di mettersi lo zaino, e andare, e toccarla questa natura. A proposito di questo, è molto interessante anche il discorso, ovviamente, visto che già veniva dall'educazione ambientale, eh, in quanto oggi ci si interfaccia, ovviamente con il mondo dei social media, ovviamente, che permettono anche di avere una una risposta, immagino, no, anche dal punto di vista di chi scrive, con coloro che lo leggono. Ma quanto poi questa interazione, facciamo ad esempio il discorso oggi dell'atematica ambientale, poi effettivamente riesce a incidere, eh, è quello il problema, come Phil Rouge, perfetto, capisco. Ecco, no, è quello il problema, perché comunque... Perché oggi si disperde anche, cioè, ci si confronta su temi importanti, però poi alla fine, finire quei cinque minuti, dieci minuti di attenzione, si teme, poi ci si spegna la luce... Sì, ecco perché deve avere radici profonde, quest'albero allunguato deve avere radici profonde, l'albero, il logo del premio, perché deve portarci a cambiare il nostro modo di essere, ma non seguendo quella cosiddetta decrescita felice, no, che già il nome ci spaventa, in realtà è una crescita sostenibile, perché poi non esiste soltanto la sfera economica, esiste la sfera della crescita personale, delle emotività, per cui trovare il nostro posto sul pianeta in un modo più sostenibile, anche per noi stessi, anche per il nostro cuore, per il nostro, è sicuramente importante. E allora, complimenti ancora per questo premio. Grazie. Non solo di consumazione, ma anche per la saggistica, quindi è un altro premio. E niente, continuiamo a fare un certo punto di vista di educazione ambientale. Grazie. Grazie. Alla ciao. Bene.